A Terra Nuova Bracciolini ha approvato il bilancio di previsione 2015 e ci sono delle buone notizie, ne parliamo con il sindaco Chienni. Sì, nonostante la riduzione sensibile che si è verifiata in questi anni dei trasferimenti statali, addirittura Terra Nuova ha ricevuto in 5 anni 2 milioni di euro o meno dallo Stato. Siamo riusciti con un lavoro di spendi review rispetto alla spesa corrente e alle società partecipate a non aumentare le tasse e anzi in talunni casi a diminuirle. Mi riferisco in particolar modo all'Imu Rurale che abbiamo diminuito dal 7,6 al 6 e poi alla conferma della riduzione delle tariffe della mensa scolastica che le erano previste per inizio dell'anno addirittura a 5,10 euro a pasto invece le abbiamo portate a secondo dell'Isee da 1,80 a 4,40 con ulteriori riduzioni per i secondi e i terzi figli. In più c'è stata una riduzione sensibile per quanto riguarda le tariffe dell'asilo nido per i secondi figlia. Nonostante la riduzione dei trasferimenti statali abbiamo mantenuto inalterato l'investimento in tre settori che consideriamo strategici, ossia il sociale, la scuola e lo sport. L'investimento che faremo anche quest'anno in questi settori qui è complessivamente di 2 milioni di euro. Un'altra scelta importante riguarda poi l'IRPEF che l'abbiamo mantenuta estremamente bassa perché per due terzi della popolazione teranovese sarà di 0,40 e 0,45 il che ci attesta come una delle IRPEF più basse dell'intero Valdarno, Retino e Ferentino quindi anche questo è un risultato importante perché vuol dire lasciare diversi euro in tasca ai nostri cittadini e aiutarli anche in questo senso. In questi giorni stiamo presentando il bilancio di previsione, lo abbiamo già fatto in alcune frazioni, stiamo proseguendo e il 10 di giugno alle 21 saremo in sala consigliare per presentarlo nei dettagli e approfondirlo insieme alla cittadinanza del capoluogo.